Mister, speravate a questo punto della stagione di trovarvi in questa situazione di classifica? Si spera sempre il meglio, quindi magari qualche punticino in più secondo me ce l'aspettavamo e ci poteva anche essere, visto alcuni risultati che purtroppo poi alla fine sono mancati. Però è chiaro che sapevamo sin dall'inizio, perlomeno io sapevo anche la società, che era durissima perché a dicembre i 15 punti fatti all'andata poi te li porti anche nel proseguo. Quindi sarebbe stata una lunga cavalcata, un campionato molto duro. Adesso siamo in questa situazione, vedo consapevolezza da parte di tutto l'ambiente, che ovviamente il pericolo è dietro l'angolo, però vedo anche un atteggiamento, uno spirito da parte della squadra importante, quindi andiamo avanti così. Come si preparano due gare che sulla carta potrebbero sembrare semplici, già scritte, ma che potrebbero invece anche nascondere delle insidie? Hai detto bene, potrebbero. Io per esperienza passata posso dire che queste sono le partite più difficili. È chiaro che sulla carta potrebbero, come dicevi tu, sembrare semplici, invece sono quelle più difficili da preparare, perché è chiaro che noi siamo consapevoli del pericolo, però vuoi o non vuoi, nella testa del calciatore poi a volte può passare qualche pensiero fuori luogo, come quello che magari nella retrocessa ti può far pensare, invece no. Questa è la partita più difficile, perché andiamo una volta, la prima in Nero Stellati, poi penseremo a Fabriano. Questa è la più difficile che ci poteva capitare, per quelle come noi e altre che stanno lottando lì giù, perché loro non hanno niente da perdere, è giusto che fanno la partita che devono fare e tu la devi preparare mentalmente, perché poi fisicamente siamo beni, ma soprattutto mentalmente molto, molto bene, perché è una partita che può nascondere, come dici tu, molte insidie. Io dico sempre a loro che le partite semplici non esistono, le partite semplici le facciamo diventare noi con l'atteggiamento. Però c'è da dire che a questo punto la salvezza per gran parte è nelle vostre mani, insomma far bene in questi due match casalinghi vi metterebbe in un'ottima posizione. La vittoria di San Giusto ci ha portato a questa situazione, hai ragione. Adesso abbiamo sicuramente una situazione che possiamo anche decidere noi e non essere sottoposti al giudizio altrui, quindi se noi facciamo bene è probabile che con molta probabilità riusciamo ad arrivare ad una salvezza diretta.